Scontro mortale ieri a Turate in via Como, la provinciale che attraversa il paese. Un motociclista, Riyad Neci, operaio tunisino di 45 anni residente a Saronno, ha perso la vita in seguito alle ferite riportate nell'incidente. Secondo i primi elementi raccolti, lo scooter del 45enne viaggiava in direzione opposta rispetto all'auto contro la quale si è schiantato una Mercedes di grossa cilindrata. Per cause ancora in corso di accertamento, poco prima di un incrocio i due mezzi sarebbero entrati in collisione, uno schianto terribile che ha ridotto la moto dell'operaio 45enne a un ammasso di rottami. Le condizioni del tunisino sono apparse subito disperate, l'uomo è praticamente morto sul colpo. Il decesso è stato dichiarato poco dopo l'incidente alle 19.30 all'ospedale di Saronno. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Turate, cui spetterà il compito di fare chiarezza sull'esatta dinamica dello scontro. Nella notte appena trascorsa, un secondo incidente, sempre a Turate, poco distante dal luogo del primo schianto. Alle 2.20 una Fiat Panda guidata da una ragazza di 20 anni è andata a sbattere contro il muro di un edificio in via Foscolo. L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, ha provocato gravi danni alla cabina del metano, tranciando di netto un tubo che ha causato una fuoriuscita di gas, riparata immediatamente da una ditta specializzata. La ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia per un intervento chirurgico a seguito di una frattura della mandibola. I rilievi, anche in questo caso, sono stati effettuati dai carabinieri di Turate.